Una serie di interventi, in parte finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, in base all'accordo di programma stipulato con il Ministero dell'Ambiente, sono in corso nelle zone di Villanova e di Valle Noncello, aree considerate a rischio idraulico a causa del pericolo di esondazione del fiume Meduna. L'assessore comunale all'ambiente è Nicola Conficoni. Oltre al parcheggio realizzato presso il quartiere fieristico in Viale Treviso, nei giorni scorsi è stata aperta un'altra attesa area di sosta. Nel quartiere di Valle Noncello. È stata ricavata presso il campo sportivo e la scuola primaria Leonardo da Vinci. Potrà essere utilizzata dai mezzi che entrano in azione in occasione delle emergenze idrauliche, ma anche tutti i giorni dai fruitori di questi importanti servizi e dai residenti del quartiere stesso. L'investimento complessivo è stato di 334 mila euro, che ci sta anche consentendo di sistemare le piste di accesso al vicino corpo arginale, realizzato negli anni scorsi a protezione dell'abitato dal rischio delle esondazioni e anche di sistemare alcuni fossi e alcuni canali che afferiscono al Noncello stesso. Nella zona sud della città sono aperti altri tre importanti cantieri finalizzati ad aumentare la sicurezza idraulica. Sempre qui a Valle Noncello sono in corso i lavori di potenziamento e dell'elettrificazione degli impianti idrovori. Lungo la strada regionale 251 stiamo realizzando gli attraversamenti per consentire un più agevole deflusso delle acque e presso la frazione di Villanova Storica stiamo manutenendo il reticolo idrografico minore, in particolare in questo momento il rio Becus. Nelle prossime settimane comincerà anche la pulizia del fiume Meduna che seguirà quella del Noncello realizzata lo scorso anno. Nelle prossime settimane